Scatola nera, dove ti trovi? Eccola qua, facile. Sono un sacco di punti ste scatole nere e ce ne mancano solo due per un potenziamento. Uh, 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 aspetta. Dove sei? Eccoti! Preso! Vieni qua. Ecco fatto. Stata close. Lasciatemelo, quello è mio. Vieni, 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 vieni. Mio. Ecco qua, un po' di potenziamenti per noi. E ci aumenta la frusta. Grande, livello massimo della frusta che è sicuramente uno dei miei potenziamenti preferiti. Scendiamo di sotto. Ecco fatto. Pacifico e tranquillo. Come? Certo. Spero ci sia esatto qualcosa da mangiare. Camuffiamoci così la gente non sa che siamo noi. Vieni che ti mangio. Ecco fatto, grazie. Non è successo niente. Esatto. Non succederà niente. Però devo mangiarmi lui. Ecco qua. Facile. Deve incontrare i dottori Harding e Messier tra due ore. Un distaccamento dalla Blackwall ce la scopperà. Da quando Rux è autorizzato a dare ordini alla ricerca? Rai vuole che sviluppiamo un modo di ritracciare L. Credo concorderai che sarebbe di beneficio a tutti. Beh, quello sì. Peccato che non succederà. Altra gente da mangiucchiare. Che succede qua dentro? Un'idra. Beh, niente di cui preoccuparsi, insomma. Ecco qua. Iniziamo da questo qui. Che mi ha anche dato il fucile. Così ci occupiamo tutti assieme felicemente dell'idra. Però lui non deve morirmi. Prima mangiamo lui. Poi mangiamo anche lui. Ecco qua. Così sono punti extra per me e l'idra. Ciao ciao. Forza ragazzi. Concentriamo il fuoco. E addio all'idra. Bye bye. Soldati della Blackwatch. Eh, lo so. Fra, mi dispiace. Però abbiamo combattuto bene insieme. Vi chiedo scusa ma... E' stato un errore di calcolo qui. Mi dispiace. Addio. Già. Tutti li devo uccidere? No, solo questi. Ottimo. Missione compiuta e un po' di punti per noi. Ecco fatto. Eccoci arrivati. Scusa l'imprevisto Atena. Sono arrivato. L'hai trovata? Sai dirmi dov'è Maya? Mi dispiace James. Mi dispiace molto. Ora si incazza. Io le ho provate tutte. Allora! Ho qualcosa per te. Oh no. Rivuoi tua figlia? Vieni a prendertela. Ah, iaiaiaia. James, aspetta. Il segnale è stato trasmesso su Blacknet. Può averlo sentito chiunque. E allora? E quindi anche Alex sa dove si trova. È una trappola. Non puoi lanciarti a testa bassa. Lo vedremo. Ha fatto la scelta sbagliata lui. Mi dispiace. Potevamo essere collaboratori anche lontani. Lontani, proprio un minimo di interesse comune nell'uccidere Mercer, ma... James, l'ho localizzato. È il quartiere generale della Gentech. Come farai? Voglio solo riuscire a entrare. Il resto vedremo. Poi come fare? Basta che mi camuffo. Ne sei sicuro, Fra? Io ci metto un attimo ad entrare. Ecco fatto. Usa il pugno martello contro la barriera per entrare nella struttura. Che ne dici se invece prima facciamo saltare qualche carro armato? Ecco qua. E ora usiamo i pugni martello. Kaboom! Di cosa cazzo è fatta questa porta? Non lo so. Ma a quanto pare è abbastanza resistente. Va bene. Se è quello che vuoi. Lo farò. Ecco fatto. Iniziamo. Ad occuparci. Nei fastidi principali. Ovvero. I mitra. I mitra. I mitra. No? Oh. Forse è un nuovo potenziamento per il pugno martello. O forse usiamo lui per sfondarlo. Esatto. Ah, adesso proprio neanche il combattimento. Proprio li mangiamo subito. Senza neanche proprio sprecarci. Oh. Ragazzi, attaccate. State buoni. Venite. Distruggete. Oh. Juggernaut, non Juggernaut. Lo so che la missione resta uguale. Vi sto solo avvisando. Cazzo. Vabbè, aspetta. Allora. Fermi un attimo. No. No, 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 no. Non posso... No. A quanto pare in questo momento non posso. I Juggernaut. No, non i Juggernaut. Non vedo. Juggernaut. I Juggernaut. Vieni qua tu. Ecco fatto. Madonna mia. Questo ha fatto male. Questo ha fatto male. Ma proprio nel sentimento. Ecco qua. No, fermo. Ma forca. Ecco fatto. Porca miseria. Juggernaut. I Juggernaut. Fuck. Beccati questo, allora. Orca miseria. Questi qua quanto sono fastidiosi. Oh. Mamma mia. Sono arrivati altri, no? Sono gli elicotteri. Addio, un elicottero. Sono morti? Oh, fuck. Niente. Purtroppo. Mi tocca. doverne catturare un altro. Ecco qua. Aspetta, aspetta che me ne mangio due in un colpo solo. Ti prego non morire mentre mi mangio lui, eh. Resisti. È morto, niente. Peccato. Va bene. Ecco qua. Ah, porca. Quanto resistente. Porca. Bastardo. Ecco qua. Vieni che ho bisogno di una mano da parte vostra. Perfetto, ragazzi. Venite, per favore. Fatelo a pezzi. Esatto, andate. Li proteggo io. Perfetto. Dov'è andato l'elicottero? Una porca. Ecco qua. Se non fosse stato per quello imprevisto, avremmo già distrutto la barricata. Ah, troppo in alto. Scendi. E addio l'elicottero. Oh, finalmente. Mamma mia. Sì, sì, sì. Arrivo subito. Addirittura. Vai, prenditela. Ora fammi un favore. Porta via tua figlia da questa cazzo di città. Complimenti. Ha fatto una roba nobilissima. è contro di me. Non faccio aspettare altro. Eller, che cazzo è successo? Eller, che cazzo è successo? D'accordo Uccidere il creatore Una vera rottura vediamo Completa un atto d'amore Credo che siamo arrivati alla fine sai Io mi ritengo Pienamente soddisfatto Delle nostre abilità ora come ora Credo proprio sia arrivato il momento di concludere Anche questo gioco Poi in realtà non è detto neanche che sia la missione finale Onestamente non mi ricordo Grazie a tutti Grazie a tutti